Cenciarelli, arrivata questa vittoria, terzo posto in classifica, qualcuno dice che col cambio del modulo sono cambiati anche i risultati. Qual è il tuo punto di vista? Io penso che non sia vero, comunque anche quando facevamo l'altro modulo riuscivamo ad esprimerci in modo egregio. Poi diciamo che i risultati, anche la condizione è calata, anche perché avevamo alcuni infortunati come la Padula, che è comunque un'uomo importante per noi. Anche altre persone come Fiore, Petrella, insomma ci manca un bel po' di gente, però l'importante è che domenica abbiamo vinto e che siamo ritornati sui nostri passi. Cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa, per esempio rispetto alla gara casalinga con la propria gente? Non lo so cosa è cambiato. Il fatto è che comunque sabato siamo riusciti ad entrare con il piglio giusto, nonostante giocassimo contro una grande squadra che faceva del possesso palla la loro arma. Noi comunque abbiamo fatto il gol, abbiamo rischiato, non stavamo per fare pure il secondo, poi non ci siamo riusciti e abbiamo tenuto in pugno fino alla fine del match. Ora il calendario vi propone diverse sfide consecutive con formazioni toscane. Si inizia con il Tutto Cuoio che notoriamente è una formazione molto ostica, soprattutto sul proprio campo. Sono tutte partite difficili, dalla prima all'ultima, il Tutto Cuoio l'abbiamo incontrato anche l'anno scorso. Lo conoscete bene quindi? Lo conosciamo perché qui abbiamo pareggiato e invece l'abbiamo perso, quindi sarà una partita difficile da tenere sotto d'occhio. I tuoi compagni dicono che non bisogna guardare la classifica, i tifosi la guardano, insomma questo terzo posto è sicuramente importante, fa sognare i vostri supporters. Tre settimane fa facevamo piangi i tifosi, quindi adesso è meglio stare con i piedi per terra e pensare magari prima alla salvezza e poi se viene qualcosa di meglio ben venga. Cosa vi ha detto? Se vi ha detto qualcosa il presidente Campitelli dopo la partita di sabato scorso? Ci ha fatto i complimenti, ha detto che questo era l'atteggiamento giusto e noi cercheremo di portarlo avanti fino alla fine.